Il 5G, una tecnologia di quinta generazione utilizzata per le comunicazioni mobili. Essa sta gradualmente sostituendo tutte le tecnologie precedenti. Ma c'è qualcosa di oscuro dietro a questa nuova tecnologia. Qualcosa che va oltre alla semplice evoluzione delle comunicazioni mobili. Molti sostengono che il 5G sia stato progettato per scopi oscuri e pericolosi e che i campi elettromagnetici indotti dai nostri dispositivi elettronici siano in realtà dannosissimi per la nostra salute. Ma sarà davvero così? Oggi daremo una risposta definitiva a tutte queste domande. E faremo anche un piccolo esperimento che vi insegnerà a misurare la vostra diretta esposizione a tutte quante le onde elettromagnetiche in casa, in ufficio o dovunque vi pare. Tutti noi siamo costantemente immersi all'interno di questi campi elettromagnetici. Questo perché essi sono generati da tutti quanti i nostri dispositivi come cellulari, computer, forni a microonde, elettrodomestici, trasformatori e così via. Tutti questi campi elettromagnetici sono in realtà composti da campi magnetici e campi elettrici come suggerisce il nome. E se volessi spiegare a un bambino di 5 anni come funziona questa roba vi direi molto banalmente che all'interno dei fili che utilizziamo nei nostri dispositivi quando una corrente elettrica si sta muovendo al suo interno si genera in realtà contemporaneamente anche un campo magnetico. Quindi possiamo dire che i campi elettrici e i campi magnetici sono davvero dovunque e si influenzano in maniera mutuale costantemente nel tempo. E molti di voi ora si chiederanno va bene Dani, ho capito che esistono i campi elettrici e i campi magnetici ma questa roba fa male? Come facciamo noi a vedere questi affari? Purtroppo dovete fidarvi delle mie parole perché i campi elettromagnetici non sono visibili ad occhio nudo. O meglio, essendo le onde elettromagnetiche delle radiazioni di energia esse sono generalmente invisibili all'occhio umano. Alcune di esse però possono essere percepite sotto forma di luce come ad esempio la luce del sole. Esistono tuttavia delle applicazioni come questa, magnetometer che ci consentono di sbirciare come sono messi i campi magnetici all'interno della nostra stanza. Ovviamente il tutto è completamente gratuito questo video non è sponsorizzato il campo magnetico è attualmente misurato in micro tesla che è l'unità di misura dell'intensità di questi campi magnetici. Se ad esempio ci dotiamo di una calamita e la avviciniamo nell'area dove sono presenti i sensori del nostro cellulare vedrete che i numerivi diventano rossi perché la calamita effettivamente produce un campo magnetico. La stessa cosa ma con un'intensità minore avverrà se avviciniamo il nostro cellulare alle nostre cuffie perché al loro interno è presente proprio un magnete. Per quanto riguarda invece i campi elettrici si utilizzano delle sonde apposite oppure degli strumenti chiamati oscilloscopi oppure i voltmetri. Io purtroppo non ne ho uno qui con me ma tranquilli perché alla fine del video vi mostrerò come utilizzare il vostro cellulare trasformandolo in un lettore di campi elettromagnetici. Ovviamente con i dovuti limiti perché i vostri cellulari non saranno mai in grado di captare tutte le onde elettromagnetiche soprattutto quella a frequenza più elevata che saranno prodotte da tutti quanti i dispositivi che si trovano attorno a voi ogni giorno. Bene, come avrete sicuramente intuito da questi primi due minuti di video i campi elettromagnetici non sono tutti quanti uguali tra loro. Essi possono infatti avere differenti proprietà che dipendono sempre dalle caratteristiche del dispositivo che va a generarli. Facciamo un esempio che abbiamo tutti quanti in casa i famosissimi forni a microonde. I forni a microonde generano sempre un campo elettromagnetico che ha la caratteristica di avere un'alta frequenza. Invece i trasformatori che utilizziamo tutti i giorni generano sempre un campo elettromagnetico ma ha bassa frequenza e quindi questa caratteristica chiamata frequenza del campo elettromagnetico cerca di misurare quanto velocemente oscillano le onde a cui siamo immersi tutti i giorni. E qui attenzione perché la frequenza di un campo elettromagnetico può avere un impatto sulla sua capacità di interagire con i materiali e gli organismi che ci sono al suo interno. Ad esempio i campi elettromagnetici ad alta frequenza come quelli dei microonde possono essere assorbiti dai tessuti umani causandone un effetto termico che vuol dire che diventiamo più caldi in poche parole. E quindi il campo elettromagnetico del forno a microonde ci fa male? Assolutamente no perché la frequenza non è l'unico fattore che va ad impattare sulla pericolosità di un oggetto. Dobbiamo tener conto anche di intensità e tempo di esposizione cosa che con il 5G sarebbe costante e sempre presente nel tempo. E quindi cerchiamo di dare una risposta definitiva a questa domanda parlando anche delle onde elettromagnetiche che vengono utilizzate all'interno della nostra telefonia mobile. Il 5G è una tecnologia di comunicazione mobile che utilizza onde elettromagnetiche ad alta frequenza come il microonde per trasmettere e per ricevere dati. Attenzione però le frequenze usate dal 5G dipendono dalla zona che si vuole coprire. Quelle più elevate sono utilizzate solamente in casi ridotti. In generale però il 5G funziona attorno alle frequenze che viaggiano tra i 600 MHz e i 90 GHz. Le frequenze più basse come i 600 MHz vengono utilizzate per la copertura ad ampio raggio. Mentre quelle più alte sono utilizzate per coperture a basso raggio ma con velocità veramente pazzesche che raggiungono anche gli 1.8 gigabit al secondo che è una roba incredibile meglio delle mie connessioni di casa. La differenza del 5G rispetto al 4 o al 3G non è solo nella velocità ma soprattutto nell'utilizzo di antenne chiamate Massive Mimo che non forniscono più un segnale radiale ma che viene focalizzato solo sui dispositivi che utilizzano il 5G. Queste onde sono state ampiamente studiate e abbiamo un'agenzia internazionale sanitaria chiamata OMS e congiuntamente all'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro che monitorano costantemente l'intensità, la frequenza e quindi la sicurezza di tutti i cittadini che vengono esposti costantemente a queste onde nel tempo. Ad oggi ragazzi non esistono delle prove scientifiche che dimostrino che l'esposizione alle onde elettromagnetiche di questa tipologia comporti rischi per la salute umana. Le uniche radiazioni dannose sono dette ionizzanti e utilizzano frequenze davvero altissime se paragonate a quelle del 5G. Ma c'è una piccola postilla a queste dimostrazioni e a questi studi ovvero che questi livelli di esposizione siano al di sotto di limiti molto stringenti che vengono stabiliti però da delle linee guida internazionali e quindi compito di tutti coloro che decidono di installare un'antenna del 5G di rispettare questi stringenti limiti che sono nati da un attento studio sulla biologia e sulla fisica dei corpi messi all'interno di questi campi elettromagnetici. Quindi c'è da preoccuparsi? La chiave per capire se un campo elettromagnetico nocivo per uomo risiede nell'intensità e nella durata dell'esposizione al campo stesso. Sebbene la frequenza delle onde del 5G sia molto elevata l'intensità generata dal campo di questa fantomatica rete di nuova generazione è talmente bassa e si trova talmente sotto a livello di limiti rispetto a quello che impone la legge che o ci stanno mentendo tutti oppure possiamo davvero dormire dei sonni tranquilli. Se però anche voi come me siete persone che vogliono avere dei dati alla mano che parlano adesso vi spiego come misurare il livello delle onde elettromagnetiche nella vostra casa o sul vostro posto di lavoro. Tenete bene a mente però che l'applicazione che utilizzeremo va a utilizzare i sensori del nostro cellulare quindi ci focalizzeremo in particolare sulle onde elettromagnetiche del wifi e delle antenne telefoniche. L'applicazione rileva anche il 5G ma ovviamente serve un cellulare che lo supporti. Se avete un'antenna vicina fatemi assolutamente sapere quello che vedete nei commenti. Sapete che ad oggi il limite massimo per i livelli di esposizione di campi elettromagnetici dipende dalle frequenze in gioco. Come vediamo dall'estratto B del DCPM dell'8 luglio 2003 si distingue tra limiti di esposizione valori di attenzione e obiettivi di qualità. Quelli che noi interessano sono le frequenze che vanno dai 3 MHz ai 300 GHz e come notiamo all'interno della tabella essi devono avere dei valori di intensità del campo elettrico compresi tra i 20 e i 40 volt su metro. E quindi andiamo a fare qualche esperimento. L'applicazione che andremo a utilizzare si chiama ElectroSmart nombrato il mio povero cane che era curioso di vedere che cosa stessi facendo. In questo momento ci troviamo all'interno della mia camera da letto. Siamo lontani da tutte quante le forme di wifi e se guardiamo in basso all'interno delle fonti che mi espongono ci sono semplicemente alcuni dispositivi bluetooth che danno un po' di fastidio. Se ci spostiamo all'interno della schermata relativa alle antenne dei cellulari vedrete l'indice di esposizione di tutte quante le antenne nella vostra area. Questo indice ragazzi rappresenta non i volti su metro dei limiti imposti per legge ma ci fornisce una lettura che indica se ci troviamo in un'area di esposizione bassa moderata oppure elevata. Da come leggiamo per l'applicazione gli indici di cui stiamo parlando hanno dei valori molto bassi se paragonati ai limiti imposti dalla legge. Siamo addirittura lontanissimi anche dalla soglia di attenzione anche perché raddoppiando la distanza dalla sorgente l'esposizione si riduce di 4 volte. L'inquinamento di onde nella mia camera ha quindi un valore pari a 58 e corrisponde ad un valore compreso tra gli 0,01 e gli 0,3 volti su metro 130 volte inferiore al limite imposto dalla nostra legge. Ma che succede se posizioniamo il nostro smartphone sul nostro modem di casa e attendiamo per qualche istante? Come vedete il valore dell'indice è passato quasi subito a 87 il ciò indica un rischio di esposizione molto elevato. Ovviamente nessuno di noi dorme con un modem sotto al cuscino ma se volete ulteriori informazioni sulle sorgenti inquinanti della vostra area l'applicazione vi fornisce tutti quanti i dettagli del caso. Quindi il mio consiglio è quello di non piazzare il modem all'interno della stessa camera in cui magari dormite. Mettetelo come me in cucina in un luogo in cui passate relativamente poco tempo. La situazione nel caso del 5G sarà abbastanza simile. Anzi vi dirò di più utilizzando queste antenne in grado di irradiare in maniera mirata solamente i dispositivi che utilizzano questa tecnologia l'effetto medio del campo elettromagnetico sarà addirittura inferiore rispetto ai livelli del 4G. Ok dire che abbiamo finito questo video ha richiesto più di 25 ore per essere realizzato. Se volete altri video come questo lasciate in questo momento un bel like e diffondiamo finalmente in Italia un po' di informazione fatta correttamente. Inviate questo video a tutti i vostri amici complottisti che credono che il wifi il 5G tutto il resto friggano i cervelli delle persone non hanno capito assolutamente nulla di come funziona la scienza. Dal vostro ingegnere è tutto e ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti i nostri amici